Il Torino torna a vincere in casa. Siete soddisfatti? Sì, sono molto contento. È un sogno che si avvera. Prendiamo tre punti che ci servono. Sono molto importanti. Dopo un periodo difficile, ma con questa vittoria possiamo alzare la testa e lavorare. Avete celebrato tutti insieme sotto la maratona. È stato liberatorio? Sì, è stato davvero emozionante. Segnare davanti alla maratona è stato un sogno. Adesso c'è la partita contro la Roma. Come arriva la partita a questo match difficile? No, è un match molto complesso, ma dobbiamo lavorare e vedere cosa succede lì a Roma. La tua stagione sta andando davvero bene, con la tripletta in sei minuti al Mamma Cairo fino al gol di oggi. Stai vivendo un sogno? Sì, sì, voglio dire, come ho detto, venire in Italia è sempre stato un sogno fin da bambino, come giocare nel Torino. È un passo importante ed emozionante. È un passo grande per me e la mia famiglia, ovviamente. Sono solo emozionato, ma ora è vero, è un sogno. Grazie.